Turco scusa, facciamo che anch'io ti riprendo, saluto a tutti, ciao a tutti stiamo preparando lo speciale Barilla questa è una cena di lavoro, ne costa tanto sto speciale, più di cena perché di lavoro comunque se volete venire il 28 di novembre ad Aprilia, quindi tutti voi che siete intorno al Moa venite ad Aprilia al Dancing Satyricon, vi divertirete il 27 il giorno precedente si registrerà a mille voci napoletane, spettacolo bellissimo venite, non dovete pagare, è tutto gratis, l'ingresso è gratuito, pago io, è proprio il fatto pago tutto io, come dice Antonio poi c'è lo speciale di Franco poi c'è lo speciale prima del Daffare Barinaro, che si registra alle 7 di pomeriggio quindi la sera alle 19, avremo anche lo speciale con Franco Dani una cosa spettacolare, ospite dello speciale di Daffare Barinaro saranno vino, ma già basterebbe, ma non basta, Michele, basta, no Santo California, basta, no, Fausto Cignano, basta, no, Mario Magnone, ma insomma c'è da divertirsi veramente Franco Dani Franco Dani l'ho detto, sarà ospite anche a Franco Dani Franco Dani non solo lo speciale, ma ospite anche nel Daffare and Prince vi aspetto, vi aspecchiamo, non mancate, ciao